Continua con novità sempre più incalzanti la triste telenovela dell'ITR e diversi fatti nuovi. Cominciamo dalla segnalazione fatta alla procura di Sernia da Massimiliano Scarabeo che parla del trasferimento anomalo di 200.000 capi dal magazzino di Pettoranello. Trasferimento su cui vengono sollevati sospetti. Perché mandar via da Pettoranello tanta merce che potrebbe servire da garanzia per i creditori e per il TFR dei dipendenti, chiede l'assessore. Una domanda a cui risponde a stretto giro di posta Antonio Bianchi parlando di intollerabili calunnie e preannunciando che in procura ci andrà lui a denunciare sia Scarabeo che chi gli ha dato quelle notizie. Intanto sono stati convocati per lunedì l'assemblea dei soci e il consiglio d'amministrazione. Si parla del licenziamento di Manganiello e della sua sostituzione con Giovanni Petrollini, posto che quest'ultimo accetti. Dal suo canto la regione, qui c'è la novità, sempre lunedì potrebbe esercitare la sua opzione per il controllo del 51% della società. Intanto cresce l'allarme sociale a Isernia, quella dell'ITR è una bomba che potrebbe scoppiare travolgendo la già precaria situazione economica del capologo Pentro e il sindaco ne è fortemente preoccupato. Ma intanto mi sembra che la situazione si è complicata ancora di più, insomma. Mi sembra che non si è ancora usciti da una situazione di incertezza totale che negli ultimi giorni veramente è diventata quasi una telenovela. Che cosa si può fare? Io sono ancora di più preoccupato per quelle persone che lavorano lì e per le quali la prossima settimana credo che faremo un incontro giù al Comune perché mi hanno chiesto delle cose alle quali io devo dare risposta, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di avere dei soldi a breve da parte dell'Inps. Che cosa bisogna fare? Il Comune in questo momento noi stiamo alla finestra, stiamo cercando di capire dove si andrà a finire. La notizia che mi è arrivata è che però c'è ancora la possibilità di costituzione di una nuova NUCO che può assorbire una parte di questi dipendenti, insomma. Il numero sinceramente non lo conosco, una parte. Ed è secondo me l'unico modo, avendo ovviamente dei finanziatori esterni, dei soci che oggi non sono ancora segreti probabilmente, per tentare di far ripartire l'azienda. Credo che altre soluzioni non ce ne siano, io immagino che anche la regione è indirizzata in questo senso. Ecco, ma sotto, diciamo così, leggi da sotto il patrocinio di Antonio Bianchi o diciamo Antonio Bianchi è passato? No, diciamo superiamo questa fase di Antonio Bianchi, io credo che vada fatta una società nuova con soci diversi, con persone che vogliono assolutamente rilanciare l'azienda e mi auguro insomma che la vicenda della Fidiozione possa in qualche modo sbloccare la situazione. Vediamo la regione come si comporterà nei prossimi giorni, sperando che non ci siano ulteriori proroghe, perché quello che temo io è che si possa prendere ancora del tempo. Mi auguro che così non vada e che si possa al più presto creare questa nuova società.